Eccoci qua, buonasera. Buonasera, siamo con un nuovo amico, di solito collegato da Londra, questa volta invece nella Tia Sardegna, come sentirete dall'accento vagamente, perché l'altro giorno, lunedì mattina mi pare che fosse, abbiamo entrambi assistito incidentalmente ad una ospitata, mi pare che fosse a Skype di G24, del professor Raimius24, grazie per la correzione Maurizio, del professor Leonardo Becchetti, che è ordinario di economia attorvergata, e la cosa, senza che ci fossimo messi d'accordo, ci ha fatto un po' saltare dalla sedia, io l'ho commentata su Twitter, Maurizio mi ha gentilmente girato il link a queste dichiarazioni del professor Becchetti, che entrano nel solco di quella cosa che avviene un pochino da, credo a qualche anno almeno, in cui il debito pubblico è sì un problema, ma un problema risolvibile attraverso strumenti non convenzionali, nella fattispecie gli strumenti non convenzionali sarebbero quello dell'assorbimento e della cancellazione del debito pubblico da parte della BCE, che come sapete sta acquistando massicciamente il nostro debito. Ora, poiché questa cosa, noi non vogliamo dire subito se si può fare o non si può fare, non spoileriamo per adesso, però questa cosa delle implicazioni ci è sembrato curioso e anche un po' poco accorto che un ordinario di economia facesse un'affermazione così importante e apodittica senza giustificarla e senza spiegare che cosa significa fare una roba del genere, ovvero che la BCE, che sta acquistando sul secondario grandi quantità dei nostri titoli, decide a un certo punto di cancellare quel debito. Ora, noi sosteniamo, noi liberi oltre, sosteniamo da tempo che il debito è sì un problema, ma un debito che può essere tenuto sotto controllo attraverso determinati strumenti, innanzitutto la crescita, innanzitutto la credibilità, cioè il debito è un problema nel momento in cui non è più sostenibile. La rincorsa a soluzioni appunto non convenzionali, a volte fantasiose, è un tema che spesso ricorre e quindi, visto che ci siamo trovati sulla stessa linea d'onda, io e Maurizio, io ho pensato di chiamare Maurizio perché lui da giornalista, poi ti presenti tu un attimo Maurizio, da giornalista economico e finanziario che segue molto i mercati, in particolare quello che sta avvenendo sul secondario, per quello che riguarda gli acquisti BCE, dicesse la sua e desse il suo parere su queste affermazioni di Becchetti. Maurizio, venti secondi per presentarti, per dire ai nostri amici cosa fai e poi partiamo con un dialogo, ci scambiamo un pochettino le opinioni. Allora, io mi chiamo Maurizio Carta, come hai detto tu, Costantino, e faccio il giornalista economico-finanziario per Alliance News, cioè un'agenzia di stampa economico-finanziaria, notizia economico-finanziaria, che ha sede a Londra. E siamo supplier anche del Bloomberg Terminal e in più sul Dow Jones Fattiva, sul notiziario. Inoltre faccio degli approfondimenti e sono un contributor di TP News, cioè Tepost Internazionale, che è un giornale italiano che ha sede a Roma e che penso che tutti conosciate. Quindi ho questa doppia veste di giornalista economico-finanziario, in più faccio degli approfondimenti anche per Tepost Internazionale, Internazionale. Quindi adesso volevo provare... Allora, cosa ha detto? Intanto tu parli, io faccio lo share screen, così facciamo vedere il tweet di RaiNews24, in cui ci sono le affermazioni di Leonardo Becchetti. Tra l'altro è facilmente anche ritrovabile proprio il video, in modo che si senta che cosa ha detto esattamente il professor Becchetti. Intanto vai, io faccio lo share. Allora, in questo caso stiamo parlando, come dicevamo prima, del fatto che, se ne è parlato tante volte, il debito italiano, la quota del debito italiano che è detenuta all'interno della BCE, possa essere, diciamo così, cancellato. Cosa intendo per cancellato? Per cancellato significa che quando le obbligazioni, i BTP o, insomma, le scadenze del debito italiano arriveranno a scadenza, chi ha in mano questo debito, questi bond, bond sovrani in questo caso, non ne richiedano il pagamento, cioè riavere indietro il debito che è stato patuto, in questo caso la BCE. Ecco, questo, Costantino, tu, insomma, potrai testimoniare che è stata una ipotesi che è stata avanzata più volte, anche dal governo Conte 1, se non erro, chiaramente non il 2. Assolutamente, sì, dal Conte 1, certo. Per bocca più volte dei due referenti di politica economica della Lega e poi è stato rilanciato anche da diversi esponenti del Movimento 5 Stelle durante il Conte 1. Esatto, adesso io provo un attimino a mettere le carte in ordine. Allora, innanzitutto io da privato cittadino, spero anche tu, insomma, saresti ben felice se fosse così semplice prendere un bel pezzo di debito italiano e poterlo cancellare. Chi non sarebbe contento? Quale sarebbe il governatore della Banca Centrale che non approfitterebbe di questo per aiutare il proprio Paese o la propria area di competenza monetaria? Però il discorso è che nella realtà è un attimino più complicata la cosa. In passato si è parlato tantissimo di possibilità di cancellazione del debito, poi si è parlato di monetizzazione del debito che è ancora un'altra cosa, però andare nel bilancio della BCE e fare un segno con la penna rossa è un'ipotesi che, diciamo che negli ultimi anni, abbiamo sentito più volte. Io ti voglio dare un po' di numeri, Costantino, che tu che sei un accanitto appassionato di conti pubblici conosci bene, tu sai quanto è grande il debito pubblico italiano e più o meno io che sui mercati ci lavoro da giornalista e non da operatore, da giornalista e non da operatore, ti posso dire che per la fine del 2020 oltre, ben oltre probabilmente il 25% del debito pubblico italiano sarà detenuto dall'ABC. Allora supponiamo che non sia il 25% e che sia comunque una fascia tra il 20 e il 25%. Possiamo generalmente dire che quindi se tanto mi da tanto il 20% o il 25% di tutto il debito pubblico, stiamo parlando più o meno di al 25% oltre 600 miliardi, sto andando così al naso, 6 per 4 è 24, ok. Allora il debito pubblico italiano ha in media, in media, una scadenza media che è intorno ai 7 anni, mese più mese meno. Quindi poi noi, posso aggiungere a questo, ogni anno a scadenza arriviamo con una parte di debito pubblico ma inferiore tra i 450 e i 500 miliardi di euro. Quindi significa che noi ogni anno abbiamo delle scadenze per questo ammontare. Chiaramente non tutte nello stesso giorno, magari per chi non è pratico della materia, diciamo che ogni anno sommato abbiamo questo debito in scadenza e che questo insomma è diviso per mesi, però ogni anno il totale più o meno è questo. Quindi nella proposta che ogni tanto si avanza, in fase del tutto teorica, bisognerebbe chiedere all'ABC, andare all'ABC e dire che questo debito noi, insomma, chiaramente contrattandolo, uso la parola che secondo me è più appropriata. Cioè bisognerebbe andare all'ABC e dire che noi per la nostra parte di debito italiano facciamo il default. Facciamo il default. Cioè significa che io vado dalla, insomma la butto simpaticamente dalla signora Christine Lagarde. No, no, ma chiamiamo le cose con il loro nome perché è importante, perché di questo si tratta. Default. Oppure se vogliamo essere più gentili ne chiediamo un ampio sconto, perché comunque facciamo finta che noi stiamo andando a negoziare, tiriamo altro, una ristrutturazione. Chiamiamola così. Allora, qui ci sono diverse teorie, no? Non è che non si è mai parlato di questo. Ne hanno scritto persone molto più sagge, colte e dotte di me, che di lavoro fanno gli accademici. Ne ha scritto per esempio anche Paul DeGrow, che è un bravo economista, soprattutto ha scritto un bel libro sulla economia dell'unione monetaria. Però è sempre rimasto, insomma, come nell'ambito del verbale. Perché? Perché chi ha una minima conoscenza di come funziona la banca centrale, sa benissimo che la banca centrale è fatta di assets and liabilities, cioè di attività e di passività. Allora, il discorso è che tra le passività, quello che magari ci fa passare bene le giornate, ci fa divertire, ci dà la possibilità di mangiare e sto parlando del denaro. Per la banca centrale è una passività. Le banconote, i soldi, sono una passività della banca centrale. Che cosa ha la banca centrale fra le attività? Fra le attività ha riserve di valuta estera, ha oro, ha altri asset. Tra questi asset ci sono i bond dei paesi sovrani. Nello specifico, adesso facciamo l'esempio dell'ABCE. L'ABCE è composta da degli azionisti. Chi sono gli azionisti dell'ABCE? Innanzitutto sono tutti i paesi dell'Eurozona. Quindi quelli che noi abbiamo conosciuto una volta come Banca Centrale Spagnola, Banca Italia, Banca Centrale la Germania. E inoltre ci sono anche degli altri paesi che fanno parte del sistema economico delle banche centrali, che comunque hanno delle piccole quote all'ABCE. Per esempio, chi è più curioso vada a vedere chi sono gli azionisti dell'ABCE. Nel sito dell'ABCE, per cortesia, perché bisogna controllare gli organi ufficiali, e vedrà per esempio che la banca centrale della Polonia ha un piccolo pezzettino dell'ABCE. E che soprattutto l'anno scorso, lo dico ancora per i più appassionati, sono state rifatte le capital key, cioè le quote di azionariato, perché con l'abbandono della Banca d'Inghilterra grazie alla Brexit è stato fatto un riparto per quel pezzo di Banca Centrale. Quindi cosa succede? Se alla Banca Centrale Europea si decide di abbuonare, stiamo parlando sempre nell'ambito della fantasia, di abbuonare all'Italia un debito o parte di esso, dovremo cancellare, letteralmente cancellare, dal lato delle attività, lo stesso a montare. Ecco questo. Questo che cosa significa? Che se io da un lato tolgo 200 miliardi di debito italiano, devo togliere dal lato delle attività della banca, 200 allo stesso modo, perché tanto mi dà tanto. Ecco, allora siccome abbiamo detto prima che il denaro è una passività della Banca Centrale, tu puoi immaginare cosa può succedere se ogni anno o ogni mese i titoli che sono in scadenza all'ABCE vengono praticamente cancellati e quindi l'Italia non dovresse pagare nulla. E secondo Costantino, se tutti facessero così, oppure solo l'Italia, per quel pezzo di debito, con un quarto di debito pubblico, tu puoi capire che colpo prende la parte delle attività, quindi il patrimonio, della Banca Centrale Europea. Ecco questo e poi ti do la parola. Molti dicono che una Banca Centrale non possa fallire. Anche nei mercati si dice che non va mai sfidata la Banca Centrale. La Banca Centrale teoricamente può creare moneta a suo piacimento, anche se non è assolutamente vero, perché la moneta è sempre il collaterale di qualcosa, quantomeno nelle banche centrali serie. Ecco. E poi perché tu, Costantino, puoi tranquillamente immaginarti o provare a farlo, cosa succede se all'Italia ogni tranche di debito in scadenza viene abbonata e perché no? Si crea questa catena dello spagnolo, toc toc, perché a noi no. Poi arriva il greco, che ha già precedenti, perché a noi no. Il portoghese può fare lo stesso, l'irlandese può fare lo stesso e tutti quei paesi che sono oggetto del quantitative easing della BCE, del programma PEP che è partito dopo, ma che comunque fa parte del quantitative easing, e di tutti quei paesi che hanno all'interno della BCE una parte del loro debito, comprata chiaramente sul mercato secondario, perché la BCE non può partecipare alle aste, perché così prevede il trattato, per i più curiosi all'articolo 123, ma soprattutto non tanto il fatto che ipoteticamente la banca centrale del paese o del pianeta Marte cancella il debito, ma soprattutto che si possa azzerare o addirittura portare in passivo il patrimonio netto, quindi lavorare con una banca centrale che abbia il patrimonio netto in negativo e che per quanto nominalmente lo possa fare perché crea il denaro, perde assolutamente controllo di quelle che sono le sue passività. Quindi una cosa fondamentale è che il denaro ha un valore perché è un bene finito. Se tu dai al denaro, togli quel pezzo di collaterale che sta all'interno della Banca Centrale Europea, crei una spirale inflazionistica non solo per un paese, ma per chi sta all'interno di quell'area monetaria, facendo sì che tutti gli altri paesi vadano a chiedere lo stesso, perché se lo chiede Atene non vedo perché non lo debba chiedere Sparta. Quindi oltre che da un punto di vista strettamente teorico, figurati se Mario Draghi non abbia mai pensato una cosa del genere, ma sicuramente non l'ha mai detta, per carità, puoi capire l'azzardo morale, ma soprattutto anche la poca impiantistica teorica accademica che ha dietro. Ecco, tutto qua. Però per tornare al tweet penso che probabilmente avrebbe dovuto dare delle spiegazioni più accurate, anche perché io di lavoro, ripeto, faccio il giornalista economico, non sono un accademico, quindi quando un professore universitario dice qualcosa ci penso dieci volte prima di pensare che possa essere sbagliata o non corretta. E quindi tutto qui si trova ancora, a mio modesto parere, il fatto di cercare una scorciatoia che nella realtà è più verbale che pratica, ha problemi che sono esponenzialmente molto più grandi. Sì, esatto, perfetto. Allora, un paio di considerazioni aggiuntive. La prima sulla scia di quello che stai dicendo tu. Fare affermazioni così, semplici da comprendere per una fascia di pubblico, è estremamente pericoloso, perché non si fa un'azione di verità. La cosa è tanto più grave quanto più andiamo in alto nella fascia degli intellettuali oppure dei competenti, perché una formazione del genere io me l'aspetto e l'ho letta più volte da parte dei politici. Ci sono alcuni politici 5 Stelle, in particolare le loro parlamentari, che da tempo stanno spingendo verso questo e che non vedono, ma forse probabilmente per limiti culturali, oltre che per necessità di fare propaganda, quali sono gli effetti di un'eventuale manovra di questo tipo. Lasciamo stare che si dimenticano anche i trattati, perché come ricordavi giustamente tu, per fortuna la Banca Centrale Europea non può finanziare gli Stati attraverso l'acquisto in asta. E questa è la prima considerazione, quindi prudenza ai professori che vanno in tv a dire certe cose, prudenza, cioè siate più prudenti quando fate queste affermazioni, perché l'effetto che hanno è quello di indurre le persone che non hanno quel tipo di competenza, che sono specifiche, ma io dico sempre, Maurizio, non so se sei d'accordo, è vero che sono specifiche, ci sono tante technicality dietro la lettura di un trattato come quello di funzionamento dell'Unione Europea, però alla fine non sono difficili da trovare, cioè non sono neanche troppo difficili da interpretare, secondo me. In questo senso i trattati europei non sono come, che so io, il DPCM ultimo che dice visto, 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 visto il decreto, visto, cioè è abbastanza facile da comprendere cosa dice il 123 del Tfue. Sì, certo. Cioè non bisogna aver fatto studio sul giudice. Guarda, poi Costantino, io ho notato una cosa, per quanto riguarda quantomeno i trattati europei, ma non so se è una mia impressione personale, è che in pieno spirito europeista, che dovrebbe essere quello che è coinvolgente, i trattati sono scritti, ma solitamente lo sono anche le Costituzioni dei Paesi, affinché tutti lo possano capire. Se tu prendi la Costituzione italiana, è scritta con un linguaggio, dei vocabili, una semantica davvero semplice, affinché sia includente. Ecco, io credo, non so se sei d'accordo, però per quanto riguarda il trattato europeo, questo qua è il trattato di Lisbona, l'articolo 123, ti posso garantire che, certo, poi è scritto in inglese, c'è anche la versione tradotta in italiano, ma è veramente scritto in maniera molto semplice. Poi è chiaro che ci sono le tecnicalità, ci sono i protocolli aggiuntivi, ci sono anche là, diciamo così, chiamiamole, le circolari esplicative, ma la base di partenza è veramente molto semplice, affinché tutti lo possano capire. E questo è il vero, la bellezza, diciamo, degli statuti, non è uno statuto il trattato di Lisbona, però quello che deve fare da cornice a tutto il resto, da un punto di vista legislativo. Solitamente è molto semplice, poi si disaggrega dopo, concettualmente. Esatto, esatto. Questa è la prima considerazione, quindi prudenza quando si fanno queste affermazioni, anche perché poi sappiamo che cosa significa, perché l'abbiamo visto quando abbiamo letto alcune dichiarazioni appunto di politici che per mestiere fanno gli economisti, oltretutto, quindi nella doppia veste di economisti accademici e di politici. Abbiamo visto che cosa ha significato, banalmente, forse non lo sai, te lo racconto brevissimamente. Il motivo per cui abbiamo deciso di fare liberi oltre è perché due anni fa ci fu un servizio di data room che sulla base di un presunto paper, che poi abbiamo ricercato, abbiamo chiesto a gran voce al Corriere della Sera e non è uscito il paper. L'abbiamo dovuto trovare, abbiamo capito dove era, non era un paper, non era un articolo scientifico, era un banalissimo articolo su un blog. Si parlava di mutualizzazione del debito europeo e di assicurazione del debito europeo. Quindi queste soluzioni fantasiose che noi scherzosamente, spesso con Mario Seminerio, chiamiamo l'invenzione del moto perpetuo, hanno l'effetto duplice negativo. A, di raccontare una cosa falsa, B, di alimentare una retorica che non ha basi tecniche scientifiche. Ma guarda, volevo aggiungere una cosa, perché per carità poi la mia non è assolutamente, cioè io sono ben propenso a capire le cose, a cercare di capirle anche perché comunque altrimenti non potrei fare questo lavoro, ecco. Faccio il giornalista, non devo prendere le parti di Carmelo, Antonio o Marco, però devo capire le cose e sono aperto a delle spiegazioni. Nel senso che in un mondo fantasioso, sì, è possibile, certo, si può fare tutto. Cioè questo non è che non si può fare, però che conseguenze ha? Ti faccio un esempio molto, molto, molto pratico. Ma secondo te, Costantino, ma perché la BCE compra, per esempio con il quantitative easing, soltanto certi tipi di debito, cioè la BCE per chi, insomma magari non ha tanta, chi non va tutti i giorni a spugliare quello che fa la BCE, compra il debito che ha un investment grade che abbia almeno la tripla B, meno. Cioè che non sia spazzatura, che abbia un minimo di attendibilità, un minimo di solvenza e per questo è ben scritto all'interno della BCE. Quali titoli possiamo comprare? Possiamo comprare i titoli che non scendono sotto la B, 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 meno, delle quattro, quattro per il debito sovrano, delle quattro agenzie di rating. Perché non c'è solo Fitch, Moody, se stanno andando pure, c'è anche DBRS, che è canadese. Poi magari in futuro ci sarà anche Scope, non lo so, però per adesso ci sono queste quattro. Quale debito compra? Si garantisce la BCE, compra il debito che ha una scadenza di almeno 70 giorni e che non supera i 30 anni. Cioè ha dei parametri ben chiari su quale debito da usare come collaterale per le sue passività. Se tu, insomma, un curioso va a vedere il bilancio della BCE, come tutti i bilanci normali, vedrà che se ci entra il mercoledì, il venerdì, il sabato o il mese che gli pare a lui, il totale dell'attività sarà sempre uguale alle passività. E soprattutto, essendo una banca, produce un utile annuo che viene redistribuito in termini di interessi ai paesi che ne fanno parte. Quindi una parte degli interessi che vengono prodotti all'interno della BCE tornano a Banca Italia. Ecco, adesso non mi voglio addentrare in questo discorso che è poco a che fare con quello che stiamo dicendo. Però la cancellazione del debito è una cosa che, sì, sulla carta è possibile, però con quali conseguenze? Adesso diciamo alle conseguenze. Infatti la mia terza considerazione, e chiudo, era proprio questa. Sì, certo, tutto in teoria si può fare, come dici tu. Si può anche scegliere di diventare il Venezuela d'Europa, naturalmente. È una scelta. Tanto il Venezuela o lo Zimbabwe o chi vogliamo noi. C'è da dire che questa richiesta, ripeto, da certi ambienti di cambiamento del trattato dell'ABCE, dello statuto dell'ABCE, purtroppo arriva. E arriva, aggiungo anche un elemento forse un po' polemico rispetto al vertice dell'ABCE. Quando la Lagarde fa affermazioni come quelle che conosciamo e che io te eseguiamo, ovvero per esempio riguardo anche i limiti dell'investment grade, ora è chiaro che siamo in situazioni di tale emergenza, ragione per cui la comunicazione politica che fa la presidente di BCE sostanzialmente un whatever it takes 2, cioè non lasceremo nessuno indietro, salveremo tutti. Tra l'altro quando dice salveremo tutti sta dicendo salveremo quelli che sono messi peggio, tra cui anche noi. Sono però dichiarazioni politiche perché per fortuna la Banca Centrale Europea è un ente che deve essere salvaguardato anche contro chi ne vorrebbe fare una sorta di bancomat per i governi, una sorta di bancomat per gli stati che si indebitano e fanno finta che quel debito non debba essere mai ripagato. Questa era la mia terza considerazione. Vogliamo dire, Maurizio, allora c'è il discorso della Capital Key, che noi qui su questo canale abbiamo spesso richiamato. Vuoi dare anche tu un contributo su come funziona la Capital Key e secondo te, io penso che tu la pensi come me, prima o poi il discorso relativo al riequilibrio rispetto alla Capital Key debba essere necessariamente avviato, magari in modo molto soft, molto allungato nel tempo, ma secondo me a quello arriveremo perché altrimenti qualcuno comincerebbe a dar fastidio questo, tra virgolette, scostamento che poi diventa un finanziamento temporaneo ad alcune politiche. Sì, allora guarda, molto semplicemente, per i più bravi che ci stanno ascoltando, che magari sono dei bravi studenti di economia, insomma, o sanno cosa sono le Capital Key, sono le quote che ogni paese ha all'interno della BCE. In base a queste quote, che poi sono state ridisegnate, perché comunque la BCE compra i titoli dei paesi che stanno all'interno dell'Eurozona, vengono comprati tanti titoli pubblici in proporzione alla partecipazione della Banca Centrale, dell'economia, della grandezza di quello Stato all'interno della BCE. Quindi è chiaro che la Germania dovrebbe avere più titoli acquistati perché è il primo azionista della BCE, il secondo è la Francia, l'Italia è il terzo azionista. Nel caso italiano, però, se ne stanno comprando molte di più, molte di più rispetto alla sua quota di appartenenza, cioè se uno va a vedere gli acquisti settimanali e mensili delle operazioni di mercato aperto della BCE, si sta sovraccomprando il titolo di quei paesi che sono un attimino con l'acqua, non dico alla gola, ma al petto. Quindi in questo caso il debito italiano in questo momento è sovracomprato, mentre di altri paesi è sottoacquistato. Della Germania mi pare che sia ancora sottoacquistato, dell'Austria, insomma dei paesi, diciamo così, di quelli più disciplinati, non so se mi fai passare questo termine, è sottoacquistato, ma anche perché fondamentalmente sono a condizioni di mercato che non ne hanno bisogno, volendo. Quindi alla fine, Costantino, nel lungo periodo bisognerà ribilanciare questi acquisti, poi magari in un mese se ne comprerà di meno, magari si farà una sorta di tapering, chiamiamolo così, rallentamento individuale per ogni paese, però prima o poi questa cosa finirà. Ma finirà non perché il governatore dell'ABC è brutto, sporco, è cattivo, è perché Costantino ha piacere che l'Italia non trovi sponda sui mercati, per il semplice motivo. Che vedi, guarda Costantino, nei libri di economia ci sono le formule, noi seguiamo i mercati e guardiamo le curve, i diagrammi abbastoni, però c'è una cosa che è il 90% del mercato, che è la fiducia. Ma chi ha fiducia in una banca centrale che fa indistintamente delle cose senza nessun criterio? Il denaro ha un valore perché ha un collaterale sotto, che non è solo la ricchezza di quel paese, è il potere di tassazione che c'è dietro quella banconota, ma è fatto della fiducia. La fiducia ha un peso specifico enorme nel valore di una moneta e anche di un'economia, quindi. Quindi tu ti puoi immaginare qual è l'azzardo morale nel venire da te e dirti no, tu non mi devi più niente. Tu il giorno dopo sotto casa tua hai 30 persone che ti chiedono la stessa cosa, giustamente. Ecco, per riagganciarmi a questo ti dico anche che quando poi il debito arriverà a scadenza, si farà magari un rollover, oppure magari ci potranno essere, io non escludo che in futuro ci possano essere delle piccole forme di ristrutturazione di debito. Non lo escludo, non lo so, non lo so, ormai non mi sorprende più nulla. Però non credo che verrà mai fatto qualcosa ad personam per agevolare uno Stato e per eliminare tutto il debito. Cioè se io non pago qualcosa è perché da un'altra parte qualcuno ce la perde, che in questo caso il creditore. È sempre un gioco a somma zero. E ti lascio volentieri la parola. Io lavoro, lavoriamo davanti ai mercati, tu fai l'analista, io faccio il giornalista, quindi ripeto, io non faccio trading, non sono un broker, la dico simpatica, non sono un giocatore. Io non sono Lionel Messi, io sono Fabio Caressa o Piccini che vi racconta le partite. Però le partite le vediamo, Costantino. E se uno sbaglia una dichiarazione o fa una mossa azzardata sul mercato e tu dici al mercato che quella parte di credito non la vuoi più e quindi che un debitore non pagherà, è quello il vero stigma. Lo stigma è dire che non si è dei corretti pagatori e quindi avere un abbassamento del rating, ma non da parte di Moody's o di DBRS, del rating della tua fiducia, della tua fiducia di Stato. Ma dopo una cosa del genere, il BTP a quanto lo dobbiamo emettere? Cioè a quanto io devo convincere in un'asta, un fondo, che io compro quel debito e poi probabilmente una parte di quel debito non la vedrò restituita perché mi si chiederà di ristrutturarlo. È la fiducia la chiave che fa girare i mercati, l'interesse, la speculazione. Non è un mondo perfetto, è un mondo fatto di squali quello dei mercati. Di squali però è anche il fatto che sono vatti sulla fiducia perché se Costantino mi restituisce sempre i soldi, glieli posso anche dare a tasso zero. Se io ho il sospetto che tu un giorno venga e mi chieda che io quel debito non te lo posso pagare per intero, io dopo i soldi te li posso anche prestare, ma voglio essere ricompensato per quel rischio. Cosa succede? Prima per il rischio. Ecco poi io non metto in dubbio anche che si possa dire o si possa fare una cosa del genere dal punto di vista teorico, però posso chiarire che i mercati, i mercati prezzano tutto, prezzano anche le virgole che vengono pronunciate. Quindi secondo me è un genere di mossa anche a livello comunicativo che fa solo male, ma fa male alla comunicazione anche pubblica perché non si può dire che si possono cancellare i debiti o chiederne la diminuzione perché non regge l'argomentazione. Quanto meno non in questo mondo. Assolutamente, nel mondo che conosciamo noi, forse in un altro mondo sì. Mi viene in mente quando parlavi di possibilità di mettere al centro la discussione economica e finanziaria un approccio diverso al debito pubblico che comunque esplode quest'anno in tutti gli stati. Pensiamo a quello che viene in Francia, che sfora di molti parametri, che già stava messa così e così e che arriva a ben oltre il 100%. Quindi il problema debito pubblico in Europa c'è. Per una gran parte di paesi, quelli che stavano sotto soglia 60%, ma che hanno ampiamente la capacità di ritornarci sotto soglia, ma ancora più grave per quei paesi che erano sopra soglia 60% e che avevano economie non particolarmente dinamiche. E pensate quanto è difficile per noi che avevamo un'economia stagnante. Oggi tra l'altro sui social abbiamo un pochino tutti commentato i dati dell'Istat sulla produttività. vecchio cavallo di battaglia nostro, oramai da 25 anni, dove mi pare che nessuno invece spenda una parola. Quindi il problema c'è. Quello che su cui si ragionava qualche settimana fa, anche in un'altra chiacchierata, è che probabilmente un tipo di approccio, diciamo così non convenzionale, per affrontare il tema dell'esplosione del debito e della sua conduzione sotto certi parametri di osservazione che lo rendano sostenibile, laddove non ci dovesse essere una ripresa molto violenta delle attività economiche, potrebbe essere quello di ricorrere, e io vedo questa unica possibilità, ricorrere all'inflazione. Io non vedo altre possibilità per tenere sotto controllo con strumenti non convenzionali del debito. Quindi l'unica, secondo me, è l'inflazione. Siamo però in un periodo in cui, nonostante tutti gli stimoli monetari, l'inflazione non riparte. A maggior ragione oggi che siamo in profonda crisi e le attività economiche saranno, anzi, qui tra poche ore, come sai, si ferma la Lombardia e si ferma Milano. Però non ci sono altre vie. Le vie fantasiose come la cancellazione, la ridenominazione, l'emissione ancora più massiccia di, quindi la monetizzazione del debito, non è una via. Perché verrebbe a mancare, ribadisco quello che dicevi tu, l'asset fondamentale di ogni attività economica o monetaria che è la fiducia di chi poi i soldi te li deve prestare. Questo è tutto. Sì, del mercato. Ma poi guarda, Costantino, aggiungo due cose. Innanzitutto, e poi magari insomma, questo meriterebbe un'altra conversazione a parte. Innanzitutto poi, ecco, non si dice, ma si parla sempre di mutualizzazione del debito. Hamiltonian moment, come si disse quando fu creato una frase degli Stati Uniti, perché comunque si federava il debito, dice, comunque mi sa che siamo veramente sulla stessa barca, perché siamo federali, però un debito comune ce l'abbiamo, ok? Ma te la faccio semplice semplice. La BCE ha dentro anche la Germania, la Francia, la Spagna, il Portogallo, i paesi che fanno parte dell'eurosistema, ok? Se alla fine di quest'anno avremo il 20-25% di debito dentro la BCE, ok? Ma scusami, se questo debito noi non lo ripaghiamo, ok? Ma non ce lo stanno rimettendo gli altri azionisti della BCE. Sicuramente. Cioè, alla fine, anche se a livello embrionale, noi il debito indirettamente tramite la BCE lo abbiamo già condiviso. Certo. Sì, sì, assolutamente. Poi magari non viene detto a voce alta, ma quel pezzo di debito che sta all'interno della BCE, e siccome la BCE è composta anche dagli altri stati membri, è già condiviso. Ti aggiungo una cosa, Maurizio, ti aggiungo una cosa, quindi per rafforzare quello che stai dicendo, della cui cosa sono assolutamente convinto, è già in parte condiviso. Ma pensiamo al sistema dei pagamenti. Quella è una sorta di condivisione del debito. Il target 2. Il target 2. Il target 2 è in via indiretta, chiaramente, non in via diretta, perché in via diretta non potrebbe essere, è una condivisione dei debiti nazionali. Perché è un sistema di pagamenti che finisce in un calderone all'interno del quale ci sono debitori e creditori e noi siamo dalla parte dei debitori. Sì, esatto. Poi tu immaginati senza un sistema simile come si gestirebbero le partite correnti di un paese. Come si gestirebbero le partite correnti. E poi, per riagganciarmi a quello che ti dicevo prima, a parte sulla condivisione del debito, ecco, io penso che, in fin dei conti, il debito italiano, che ha una durata settennale in media, la speranza è quella chiaramente dell'abbassamento del debito e quindi nel rapporto, per esempio, debito-PIL-deficit-PIL, di lavorare sul PIL. Perché, comunque, parliamoci chiaro, il grande collaterale di un debito è l'economia che ci sta sotto, la capacità di generare ricchezza e di poter ripagare. Poi, altre ipotesi per andare incontro a quelli che dicono, sì, vabbè, ma questo debito ci potrebbe essere questo roll-over continuo, roll-over continuo, roll-over continuo. Cioè, alla fine è anche che avanza un'ipotesi di trasformare il debito in quello che sarebbe un grande bond perpetuo, come si chiama tecnicamente. Cioè, io devo 100 euro a te, insomma, buttiamola così semplice. Io non mi restituisci il capitale, ma ci occupiamo sempre solamente della quota interessi. Ok? Ma tu, Costantino, ce la vedi la BCE carica di bond perpetui? Cioè, ma è normale fare il roll-over continuo di questo debito? No, no, no. No, Costantino. Perché il mercato, poi, non ci crede più. Il mercato non è una cosa estratta. Il mercato è fatto da chi offre capitali e chi qui capitali di domanda. Certo. Io vorrei non dire queste cose perché sarebbe bello un mondo dove tutti ci vogliamo bene, dove negli alberi ci sono le banconotte e noi stiamo all'ombra a suonare la chitarra e a scrivere le poesie. Ma non è la realtà. Esatto, esatto. Non è la realtà. Quello che mi hai raccontato troppe volte non è la realtà. È un mondo fantasioso nel quale ci sono i più bassi istinti, io dico anche con un termine di parole, le polluzioni notturne di questi qui che sognano che esista una possibilità diversa che è quella di vedersi cancellare il debito e riprendere da capo a fare quello che si è sempre fatto. E poi mi dimentico. Allora, siccome io vivo a Londra, quindi seguo anche molto da vicino la Bank of England, in Italia qualche tempo fa si parlò del fatto, erroneamente, che la Banca d'Inghilterra era andata a finanziare il governo britannico. Cosa che non è. Cioè, detta in questi termini... Bravissimo, bravissimo. Spiegala bene, perché se ne è parlato molto, è vero. Qualche mese fa se ne è parlato molto. Spiegala bene questa cosa. Allora, la Banca d'Inghilterra non finanzia il governo britannico. Allora, da sempre la Banca d'Inghilterra, che è indipendente, che è indipendente, indipendente dalla fine degli anni 90, non finanzia il governo britannico. Il governo britannico ha un overdraft, che sarebbe, guarda, la butto semplice, ha una sorta di scoperto di conto corrente con la Banca d'Inghilterra. Ma non è che la Banca d'Inghilterra stampa la moneta e la dà al governo. È uno scoperto di conto corrente. E poi, cosa da sapere? Il quantitative easing non lo fa soltanto la BCE, e la Fed o la Bank of Japan. Anzi, la Bank of Japan è stata la prima a introdurre il quantitative easing. Lo fa anche la Banca d'Inghilterra. Tra l'altro, oggi, se si va a vedere il comunicato, perché solitamente il giovedì, una volta al mese o ogni tot mesi, c'è il comunicato e le comunicazioni della Banca Centrale, come si fa in tempi moderni. Non come quando eravamo giovani noi, Costantino, che non conoscevamo nemmeno la voce del banchiere centrale. Adesso sono diventati delle rock star assolute. E cosa succede? Che, alla fine dell'anno, il governo britannico copre e poi ricopre la posizione. Esatto, esatto. Ricopre la posizione. Poi, il bond del governo britannico è comprato dalla Banca d'Inghilterra, che poi viene puntualmente ripagato. Quindi, quando si dice la Banca d'Inghilterra presta, stampa i soldi al governo britannico, non è vero. È uno scoperto di conto corrente, ricoperto al momento esatto. Perché, altrimenti, l'azzardo morale... Cioè, l'azzardo morale non è un'invenzione di Costantino, che è cattivo e vuole che le persone stiano male. Il mondo è fatto di pesi. Dare, avere, fiducia. Immaginati se una banca centrale come quella inglese, che adesso io non ti vorrei dei freserie, forse la seconda banca centrale più antica del mondo, fino al 1600, può andare mai a finanziare direttamente uno Stato. Cioè, poi alla fine la credibilità, la solidità, il patrimonio, la sterlina, che fine fa? Esatto, esatto. Ricordiamo sempre che il valore della moneta non è dato dalla quantità, ma dalla sua credibilità. Se c'è troppa quantità su un lato... Io l'altra sera, mi pare, ieri sera ho fatto con dei ragazzi, degli studenti, questo esempio. Immaginate una bilancia in cui ci devono essere dei pesi in equilibrio. Se c'è troppo sul lato della moneta e ci sono poche attività economiche, prima o poi dovrà essere equilibrato. Un riequilibrio significa anche, dall'altra parte, che la moneta si deve alleggerire, eventualmente, o come valore o come quantità. E quando si alleggerisce come valore, ovvero c'è inflazione, poi sono dolori. Sì, anche perché, vabbè, poi su questa cosa dell'inflazione ci sono anche diverse. Molti dicono cos'è l'inflazione, l'aumento della moneta o l'aumento di generale? Stiamo entrando in un altro... Entriamo in un altro ambito. Però per dirti, Costantino, il fatto che la moneta stessa abbia... una moneta rispecchia il valore che poi magari in quel momento può essere... in quel momento di morcato può essere sbagliato, attenzione. Però poi, sul lungo periodo, ogni moneta tende ad avere il suo valore. Guarda, io da poco ho scritto un articolo sul dollaro, ok? Il dollaro fa un po' storia a sé, secondo me, perché in questo ultimamente si è un pochettino indebolito, ma il dollaro è quello che tutte le banche centrali hanno come asset, perché è un asset sicuro. Sì, compriamo il petrolio, compriamo l'oro in dollaro. Cioè, il mondo ha adottato il dollaro come moneta, non de jure, ma de facto. Quindi fa un po' storia fa un po' storia a sé. Però il dollaro è la prima moneta e ha quella credibilità. Perché? Perché ha una banca centrale, che è la Fed dietro, che è seria, che a sua volta per proprietà transitiva è della prima economia mondiale. Il dollaro ha quel valore perché ha come sottostante gli Stati Uniti e la loro potenza economica. Poi si può svalutare le guerre commerciali, posso acquistare dollari, banca centrale, per cercare di farlo fluttuare. Però di base pago Dazio da un'altra parte, anche questa storia delle svalutazioni delle monete. Cioè, io vivo nel Regno Unito. Il fenomeno del, ma svalutiamo perché così esportiamo di più. Allora, innanzitutto io ho sempre pensato, per quel poco che ne capisco, che si esporta se si producono le cose in grazia di Dio. Secondo, che si esporta di più se, chiaramente abbiamo una moneta magari più competitiva, più leggera, però poi abbiamo l'inflazione importata. Cioè, io poi quello che importo mi costa di più. Ecco, ci siamo. Anche quando si parla di dobbiamo riequilibrare la bilancia commerciale, oppure aiutiamo il PIL, con la differenza fra esportazioni e importazioni, svalutando. Non è così semplice. Non sono ancora i semplici. Per esempio, guarda, ti invito sicuramente a rivedere qualcosa anche nei manuali. La teoria di Marshall Lerner sull'elasticità della domanda e sulla svalutazione. Se quella somma non ti dà uno, tra import ed export, agendo sui prezzi, la svalutazione non serve a niente. Quindi anche quando si parla di uscire da un sistema monetario, non faccio nomi, per tornarne a un altro, perché comunque così svalutiamo e noi vendiamo tutto a tutto il mondo, non è un gioco a somma zero. No. Quindi probabilmente sono delle cose che forse in Italia dovremmo imparare a comunicare meglio anche noi, forse giornalisti, ad fare più approfondimenti, ad avere dei... Guarda, te lo dico simpaticamente, mi piacerebbe avere un professor Barbero dell'economia, un Alberto Angela dell'economia, un qualcuno che ce la trasmette e ce la fa vivere con passione, perché l'economia, Costantino, sono le nostre vite. Dici, ma io non lo sono, me ne intendo di economia. Ma nessuno ti chiede la formula o la regressione o il calcolo delle probabilità o come si calcano i PMI del manufatturiero o quello che è. Però capire quantomeno un ABC finanziario ti fa capire perché certe cose si possono fare e certe no. Vedi, l'economia è quella cosa che ti fa capire in quale direzione fa il mondo e perché. Esattamente. Se non ti occupi tu di economia, l'economia si occuperà di te. Assolutamente. Ok, bene, grazie Maurizio. Direi di chiudere qui, poi torneremo e faremo altre piacevoli conversazioni con te sicuramente. Grazie intanto, era importante mettere un punto su questa cosa o questa affermazione. Io sono altrettanto sicuro che dovremo farlo ancora, magari per dichiarazione di qualche altro economista, perché succede anche qui. Assolutamente. Perché non finisce qui, questa è una cosa che si rincorre e che purtroppo ha sempre un rebound da qualche parte, però puntualmente cercheremo con il canale Liberi Oltre di rintuzzare queste rincorse verso i sogni. Maurizio, ti ringrazio. Affigurati, grazie a te. Grazie per essere stato con noi e a presto. Ciao a tutti. Mettete il like, mi dimentico sempre, mettete il like al video se è piaciuto, però anche il dislike se non è piaciuto naturalmente. Ciao a tutti.